Buon mercoledì a tutti, eccoci nuovamente insieme per gli ultimissimi aggiornamenti. Parleremo di carta spesa o carta dedicata a te da 500 euro, parleremo di assegno di inclusione A, di assegno unico universale, disoccupazione della Naspi, pensioni. Facciamo il riepilogo generale per il mese di settembre. Ma come dico sempre, se voi siete quella parte di persone che segue le mie live, ascolta i miei video, ma non è ancora iscritta alla pagina e al canale, fatelo, è utile, è gratis, ma serve soprattutto a voi per essere informati ed aggiornati su tutto ciò che vi spetta di diritto e a me per supportare e sostenere la pagina ed il canale. Partiamo subito dai pagamenti per le pensioni. Questa mattina, oggi 4 settembre, stanno pagando i cognomi dalla lettera L alla lettera P per coloro che le ritirano in contanti presso lo sportello. Sempre oggi ci sono ancora pagamenti in corso per il bonus SFL, supporto per la formazione di lavoro da 350 euro, ancora recuperi per il mese di agosto. Sempre oggi sulle pensioni stanno anche pagando i rimborsi del 730 per coloro che erano in attesa di ricevere i pagamenti proprio sulle pensioni perché come sostituto d'imposta hanno l'Istituto Infes. Ricordando agli altri che hanno come sostituto d'imposta Agenzia delle Entrate, i pagamenti sono previsti per il mese di dicembre. Andiamo avanti, parliamo di assegno unico universale. Le date ufficiali come da calendario INPS per il mese di settembre sono 17, 18 e 19 settembre. Mentre per coloro che hanno fatto domanda nel mese di agosto o hanno subito variazioni del proprio nucleo, i pagamenti arriveranno per la fine del mese di settembre. Andiamo avanti, parliamo di assegno di inclusione AVI, ricariche straordinarie attese per il metà mese ma sicuramente con qualche giorno di anticipo perché il 15 cade di domenica. Lo stesso discorso vale per il bonus SFL di metà mese. Andiamo avanti perché per metà mese, al massimo entro il 20 settembre, sono attese anche le ricariche della carta acquisti o social card da 80 euro bimestrali proprio per il bimestre settembre ed ottobre 2024. Arriviamo alla fine, parliamo di carta spesa o carta dedicata a te da 500 euro. Le ricariche sono iniziate per i vecchi percettori già a partire dal 28 di agosto e sono ancora in corso. Per la distribuzione delle card si parte dal 9 settembre ma è doveroso ricordare a tutti gli aventi diritto quelli che hanno preso lo scorso anno questa carta che non è detto che la ricevano anche per l'anno 2024, previo requisiti. Poi c'è da dire ancora un'altra cosa, questo lo sto ripetendo da tantissimo tempo. Questa carta ha un limite di fondi, quindi una volta che sono esauriti i fondi, anche se le persone risultano aventi diritto, purtroppo non ricevono il sussidio come già è successo lo scorso anno. Quindi quello che prevale al di là dei nuclei familiari con minori nati entro il 31-12-2010 e il 2006, comunque sia fa fede sempre lì se è più basso. Questa era l'ultima notizia, ci aggiorniamo più tardi se dovessero arrivare nuove notizie in merito ai sussidi.